C'è stata anche una relazione dell'ASL che ha mandato due suoi tecnici a fare una verifica speditiva sul tetto di Via Malpighi. Per valutare la pericolosità di questo tetto sono stati usati due metodi speditivi che con pochi controlli visivi o rompendo un pezzetto, ci sono delle procedure da fare, i due metodi sono uno proprio della regione toscana e uno di un altro ente scientifico, quello che è riferibile e che è pubblicato in una delibera del Consiglio regionale della Toscana ha dato esito negativo, cioè il tetto è da sostituire immediatamente, l'altro applicato in un certo modo, non ve la voglio far lunga, ha dato come esito invece che le condizioni non sono critiche ma comunque il tetto è da rimuovere entro tre anni. Ecco da che cosa arriva. E Arezzo Casa ha inteso aderire alla seconda di queste due prescrizioni, ma non quella più restrittiva che vorrebbe la sua integrale e completa sostituzione immediatamente. Le risorse. La risorse della regione toscana non ce le ha per poter fare quest'operazione oggi, se non togliendo altre sostituzioni ritenute dall'elenco di priorità fatto addirittura più pericolose rispetto a quella di Via Mappigli. Che sono? Me l'hanno detto, ma ora non me le ricordo. Va beh, va beh. I nomi delle strade, sono altri complessi immobiliari destinati a case popolari. Allora la soluzione mediatica è stata questa. Sfruttando quello che il Comune ha già fatto negli anni passati, ricordo che io ero assessore ai lavori pubblici e alla manutenzione ai tempi di Luccherini, il tema si pose allora per le scuole, dove ci sono gli utenti oltretutto più deboli, cioè i bambini. Che cosa si fece allora? Si fece un'operazione che ancora oggi dà i risultati che avevamo allora proposto di ottenere. E cioè quello che viene chiamato incapsulamento, cioè la superficie dell'Eternit viene trattata con dei prodotti che impediscono fisicamente che questo spolveri. Questa è un'operazione di tamponamento, non è che è la vita di quella copertura. Quella copertura verrà comunque sostituita, ma da qui al momento in cui verrà sostituita non è che si sta a aspettare. Si fa un procedimento di incapsulamento che riduce moltissimo il rischio.